168.000 Chiave del cancello No, è la scheda di accesso, non è la chiave del cancello Questa è una variante Io Grazie a tutti. 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 No, questo si è fermato troppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ok. Grazie a tutti. Ok. 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 Allora, prendiamo la cassaforte Vedi c'è mezzo Via i soldi 252.000 Erano 60.000 circa Forse posso provare a portarvi al bottino Ok Così riempio la borsa 430.000 dollari E via col tastierino Guarda, non mi piace ma stavolta devo farlo 1, 2 1, 2, 3 Oh, è questo via Poi 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Via, e anche il secondo L'ho fatto 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E via Via Quindi portatoria bicarbonato, un quadro E adesso andiamo a prendere le obbligazioni E poi si cerca di uscire Qui non dovrebbe dirmi niente nessuno Perché Fondi la scelatura Come primo codice 72, 59, 90 Ok Ok, 1.530.000 di obbligazioni Adesso devo uscire Non posso fuggire Va bene E ora si scende Per sicurezza Prendo comunque la pistola Arrombata E via Allora devo uccidere solo Guardiano Davanti alla 500 Questo qui Alla sinistra Lo faccio passare Ok Sono uscito dalla villa Così Pulito Sena Pietosa del Cancello Da aprire Allora questo qui Col casino che sta facendo Non lo beccano Non lo beccano E via Ora Via di qua Ora Non devo farmi beccare Perché comunque Questo merione e mezzo Devo portarlo a casa Questi mi guardano Nessuno Ma di là non mi sentono E via Via la pistola E ora E ora mi calo Giù dalla Scogliera Semplicemente scendo Scivolo Quello che volete Non mi butto E si cerca di andare via E si cerca di andare via A nuoto Ovviamente Questo Cade Devo dire O c'è una Adesso Magari Sare sullo scoglio Ci sono No Non ci sono Le barchette Di guardia Quindi Fugo A nuoto Come la prima volta Via Via A nuoto Con 1.530.000 Così A nuoto Via Si è alzato L'elicottero Ma quello Per lustrere All'isola Ma non Il mare Quindi via A nuoto E anche Stavolta Un'ora e mezza Di video Va bene Fortunatamente I tentativi Più grossi Li ho fatti Nella Nel porto Nel molo Principale E non Nella villa Per scoprire Più che altro Che Colpire Il molo Principale È un inutile È meglio Andare All'hangar Adesso Si continua A nuotare Fai vedere Dove sono arrivato Sono appena All'insennatura Vedete Non c'è Una barca Di solito È pieno Di barche Che Girano Riprendo Il nuoto E via E poi Via Festeggiare Con Non c'è Non c'è degli highlights con le luci analizzate dovrei anche smettere di farlo settimanalmente e cercare di farlo un po' più diradatto perché sennò qua rischia di diventare un dovere e quanto va avanti qua a nuotare qui vuoto, nuoto, nuoto ma questa schermata di vittoria non parte bisogna essere mai lontano ok finita ecco che parte la schermata di festeggiamento arriva il ricettatore vediamo il mio colpo com'è andato e quanto ne prendo ok ho vinto dopo un po' no però va bene potenziale 5.3 ma devo rubare tutto la mia parte è 1.347.109 dollari non male la stile vita non valida ma chiaramente giocando da solo non punto a fare il bottino pieno dunque un milione e tre buttalo via ora caricamento i tempi che saranno biblici sperando non faccia come la cosa che dà l'errore nel senso che ormai la dovrà davvero memorizzato che sia un po' Grazie. Oh, ecco, ovviamente c'è verificato un errore di caricamento della sessione, niente, come previsto, sapevo che c'era l'uscita della sessione, rientro dall'offline, ovviamente modalità offline e poi lo ricarico, dovrebbe ricaricarmi nell'appartamento con i soldi, ovviamente con i soldi, no, questa è Michael, online, gioca online, e vai, sì, ok, ovviamente caricamenti, errore di caricamento, solito errore di caricamento dopo le missioni, speriamo che abbia memo, dovrebbe averlo memorizzato, se no ho fatto tutta sta giocata per niente. Poi potete scendere la sua parte, questa è la parte perfetta nel video, ma, va bene. Questa la ha caricato, eh. Allora, sono nell'appartamento, vedete che finisce di caricare l'appartamento, solo per verificare, il milione c'è, vedete lì, il milione in contanti, 1.347.000, io non so cos'è quel messaggio di Sanai Sportivo, se ho sbagliato, voglio caricare, il milione c'è, io semplicemente lo trasferisco nel conto in banca, sì, 11.551.541 dollari totali di conto in banca. Il colpo, l'ultimo a Caio Perico. ovviamente il tempo perso nel colpo, è stato un'ora e mezza di colpo, e passa, ha perso la popolarità del nightclub, la prossima volta, il prossimo ha giocato, ovviamente offline, cioè offscreen, si va, si risistema il nightclub, probabilmente aspetterò di più della settimana, perché io pensavo di fare dei video brevi, veloci, e invece se non fare le cose, perché devo anche far passare quel paio di giorni che è il rubio deve anche calmarsi, quindi io adesso rientro nell'appartamento, esco e vado, anche perché ormai sono passate più di un'ora, quasi due ore, anche stavolta di video, dovrò tagliare, tagliare, tagliare. Va bene che il risultato è un milione e tre, però. Visto? Il power mi dà il messaggio che per ora non si può andare. Va bene, io chiudo qua, arrivederci e al prossimo colpo.